Musica E signori continuiamo con le nostre missioni secondarie Lo so che vi sto ammorbando i coglioni con questa cosa però Me le voglio togliere di lì E poi a finire di questa sequenza Faremo anche l'archivio perduto e il viaggio di Desmond Così poniamo fine a sta storia E ci concentreremo solamente sulla storia principale Per ben 3-4 sequenze buone fino alla fine della storia Credo che sia un compromesso più che giusto E più che altro una cosa che in una live di mezzo pomeriggio Posso tranquillamente finire Comunque abbiamo gli incarichi ladri Amico mio E vediamo un po' Già, ho molti pensieri Qualcuno in questo distretto sta finanziando una campagna per farci arrestare E in che modo? Beh, corrompe le guardie ottomane E anticipa loro le nostre azioni Non vogliamo entrare in conflitto con i nostri ospiti Ma nemmeno siamo disposti ad arrenderci a loro Hai per caso idea da dove provenga questo denaro? Spero di scoprirlo oggi Ti andrebbe di aiutarmi? Farò in modo che ne valga la pena Vabbè Allora Usando l'aria lontana il benefattore dalla sua zona sicuro prima di ucciderlo Ok E allora Dele azioni sia Tra l'altro questa è una missione Che cosa posso fare? Sappiamo che Domani hanno appena ricevuto una Un po' la missione della discordia La missione che nessuno riesce a fare Qualcuno manderà di sicuro un messaggio al luogo di Che anche quando la portammo per PS4 Registrazione della Playstation Vi parlo di ormai Quattro anni buoni fa E mi è stato chiesto Ma come fai? Come si va avanti sta missione? Un po' come il veicolo per la fuga a GTA V Oggi siamo insieme Lo facciamo insieme Ve lo spiego passo passo Perché quando l'ho scoperto Vi giuro Ci sono rimasto male Da quanto In realtà Semplice è Quindi Adesso Non vi preoccupate Non vi preoccupate Intanto dobbiamo andare In alto Alla sua età Ma come ci riesco? Assoldiamo sto gruppo di ladri E il benefattore è lui L2 Cerchio Basta Non c'è da fare altro L2 Cerchio Puntando Ovviamente Il diretto interessato E adesso va localizzato Il bersaglio Guarda i ladri che rubano lo scrigno Che fenomeni È lui Dove sta andando Adesso lo scopriremo Ma non vi preoccupate Che tutti i nodi Verranno al pettine Allora Sopra Allora Se incontrassero altri ladri per strada Sarebbe tutto Più semplice Il problema è che vanno incontrati Appunto Ok Lui si ferma lì Però poi continui? Esatto Sì Dai Sprint Ezio Subito Allora Di qua Di qua Su Fra dove Dove ti sei infilato? Lì Ok Aspetta 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 Che sennò Poi fallisco Perché non ti ho in vista Anche se ti ci ho invece Aspetta Non li ha altri quelli? Venite subito a me È fatta Ma subito eh Tanto ho già capito dove va Va in quella In quella specie di Zona rossa Vabbè Zona abitata comunque è Allora Lui è lì Adesso c'è il dialoghino Ti avevo detto di tenere d'occhio a quei soldati Perdonatemi Halimbey Ma i ladri hanno rubato i soldi Cosa? Come facevano? Non ne ho idea Se i nostri contatti nell'esercito non ricevono il denaro Non manterremo intatte le nostre relazioni speciali Ma io che posso fare? Niente Ovviamente Sei solo un verme Ora levati di torno No Allora Bisogna usare ladri Aspetta Venite a me Venite a me Venite a me Lui Adesso vanno a distrarlo Tanto io mi occupo di sta guardia qua Fate attenzione a quei maledetti ladri Potrebbero colpire noi adesso Forse il mio informatore non è così abile quanto dovrebbe E che farà giù? Obiettivo secondario preso perché lui sta scappando no? Lui si è allontanato Dovete morire Qual è la mia prossima mossa? Penso L'internazione Penso Chiamiamo Un adepto Aspetta 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 E poi non gli ho sparato io Però vabbè Aspetta Vai Obiettivo secondario Completato ragazzi Mi sono un attimo calcato addosso perché Non mi aveva avvertito Appena ho allontanato Però alla fine Tutto è bene quel che finisce bene Il fine giustifica i mezzi Perché non resti nel paraggi e ci tieni in riga? Vi chiamerò quando mi servirà un favore Posso assicurartelo Ok 700 acce In saccoccia Non come voi Easy 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 Ci vediamo per l'incarico Mercenari Se non vado errato Yes Alla prossima Alla prossima